Abbiamo scelto proprio appositamente questo periodo storico un po' per il commercio natalizio come dicevi e ci hanno accolto benissimo le esercenti e infatti ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato e abbracciato l'iniziativa ma anche per questo periodo storico covidiano, quindi la galleria che esce fuori per strada per permettere un po' a tutti di respirare l'arte contemporanea in maniera libera. Sono 21 le vetrine che hanno accolto il progetto, 12 gli artisti. con linguaggi completamente differenti dalla fotografia alle installazioni light al ritratto. Hanno lo scopo di uscire fuori appunto, noi scegliamo la parola out proprio perché anche il concept dell'intera mostra e quindi la scelta delle opere resta sul concetto di fuori dal tabù, dagli schemi.